salve a tutti i ragazzi bentornati in questo nuovo video del server free oggi siamo in compagnia di mario poi c'è nicola questo perché non ci sente che non è su ts poi c'è albi leo blaster e pg city come vedete in chat sta aspettando che li lascia andare a lavorare e in più in ts c'è un rompiscatole ciao allora oggi praticamente ci dobbiamo far tutto il campo 7 e l'undici da buttarli come quindi intanto andiate andate fate i buoni così intanto loro vanno allora adesso io devo cercare tanto chi è che ha spostato il t6 qualcuno mi ha spostato dai ma dai già pieno il bancale di lana eh tempo poi hai tempo d'accordo che abbiamo 500 pecore no ne abbiamo 500 no allora sto litigando coi tasti sì perché ha joystick nuovo comandi un po' diversi da quello vecchio allora devo ancora abituarmi allora vediamo se riesco a prendere sto pallet senza fare un macello invece a me è che fa fare la razionalista no Mario basta basta vai anche te a buttare il cosiddetto piscio vabbè dai tutti tutti a buttare il piscio io poi ovviamente faccio i viaggi col camion lui va a cagare invece io vado con la mamma che la cagate in mano Matti sei simpatico come no non lo posso dire come la cagata che farò tra poco eh appunto mi cagate la mamma Matti ti chichicherei volentieri ma devo stoppare la registrazione per farlo no 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 cantina cantina per me ehm comunque allora intanto questo bancale lo mettiamo qua poi li carico sul carro li vado a vendere quando ne ho qualcuno che se li carico adesso sul carro è un disastro allora questo è fatto no faccio qua qualcuno stava spalando eh da ordiniamo un po' ecco ecco Nicola qua che viene a prendersi lì come quando ho detto che glielo porto io poi qua fanno quello che vogliono io faccio ancora tre e viaggi solo pieno per la mano si allora diamo sta palata qua almeno così svuotiamola benna poi lasciamo così oddio si divertono a spostare le cose qua gli spostano avanti qualche metro e buono giusto per non lasciarli dove sono questa qua chi è che l'ha messa qua vorrei sapere appunto qua ah Leo mi ha fregato la botte che stavo usando io vabbè io prendo l'altra allora no questo fare questo qua non lo usiamo neanche adesso devo trovare il mezzo ecco qua abbiamo il Lamborghini con il container anzi spostiamolo anche perchè comunque perchè poi ci serve non c'è pagato pure caroni serve qua poi perchè facciamo che l'undici quindi può anche resta qua qua no ho messo ho messo ho messo i balli nel caro michellatore sono scompatti ma sono anche nel caro michellatore ma va fanno proprio allora va prendo il case magnum con la botte che così questo penso c'è la faccia a tirarlo bene la botte e ecco ovviamente comincia a laggare quando registro intanto ragazzi abbiamo scoperto un nuovo comico che tra un po' lo troverete a colorado il nostro Matti dai visto che hai un paio di battute sparane uno intanto battute discazzate si vai vai ok allora dai allora attento a che cosa? al cemento perchè? è armato vai a cagare ecco questo era proprio pessimo si ok allora se la smettete di laggare magari mi ha già avuto in mente un'altra ecco tienitela per il finale però questa qua non mi metterà so proprio io ah chi ha una ecco albi bravo eh mi dici ste cose stavo facendo casino a posto mio no ha detto che ha una connessione di bip 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 di tacca eh si non si dovrebbe non si dovrebbe dire in rec ma ormai no eh appunto non facciamo i bambini cattivi eh mario tacca sempre meglio che non ha detto merda eh ti sbaglio sempre tasto qua taglio per campi sennò non arrivo mai qua ehm hanno fretta loro con il come non ho tempo di far tutto il giro comunque il barco qua del carro micelatore è veramente strano cioè io butto dentro le prime due balle di sieno e non le vedo non cimare perché non gliel'avevo già detto di farlo un paio di notizie va guidiamo un po' dall'interno questo case si però se lagga ehm vado avanti come un ubriaco ciò come matti 8 ok l'8 l'hanno finito 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 l'8 l'hanno finit un po' se no diciamo tutto ok basta riappi riappi mega fail sono venuto qua con la botte vuota no ancora sto tasto posso ricaricare il container c'era già un altro che lo stava facendo oltre a me qua un casino tutti che continuano a faccio questo io no lo faccio io e basta vabbè allora mi metto anche a parte di te domande cosa faccio? un po' mi sa che mi trovi il male tanto mi son fatto tutta sta strada per tornare indietro perché son dato fin là con la botte vuota quindi genio che sono sono andato là con la botte vuota ancora continuo a sbagliare con il tasto perché c'è il tasto vicino è per cambiare mezzo a quello per zoomare no ma mi tocca a me a dico male no dai io voglio fare i viaggi Mario e allora ti lascio il case magnum dai va bene da vabbè mi prendo sto affare qua allora uffa è brutto qual'è? il T8 è brutto buttalo infatti adesso lo vado a vendere no vorrei venderlo però c'è qualcuno purtroppo piace quindi lo tengo non so come faccia piacergli ma piace ho visto ma c'è un'incazzato ma si fermo molto ma dai Nicola sta fermo lì ha il visto cosa uff ok riempiamoci da qua vado a ricaricarlo fermo lì quello non si può si come cazzo scrivo si ma anche Nicola che si sposta mentre ricarico oh Nicola stai fermo allora lagga troppo oh cacchio oh cacchio se non riesce a far niente esci oggi vogliono farmi arrabbiare ehm ma c'è chi sale su mamma mia che nervoso qua salgono su sulla roba staccano le bm e se ne vanno si appunto o le spostano intanto va sistemiamo sto macello che è dovuto rimpostare sto mostro qua intanto lo sistemo intanto devo aspettare che qualcuno porta lì qua e io intanto che aspetto almeno riordino ma il via la scelta serve bravo se laghi troppo esci che è la cosa migliore anche questo che è la parcheggiata lì parte che il pick up è solo per gli admin ho detto quindi solo io e gli altri admin possiamo usarlo e lo dico anche adesso mentre registro se entrate e usate il pick up vi avverto se continuate a gironzolare col pick up vi butto fuori usatelo usatelo lo dico io ok Matti adesso interrompo la registrazione e ti banno da ts allora qua no ma si dai intanto spaliamo un po' qua intanto eh perchè adesso è finita pure la il liquami del pg e appunto ne facciamo un po' intanto dalle bacche si ce n'è tanto è pieno? eh pieno o quasi quanto è percentuale? 36 e allora ce n'è allora intanto spaliamo un po' qua così e faccio un po' e ancora lagga strano beh quando registro comincia a laggare in sto modo mi fa venire al nervoso quando lagga così mi fa venire al nervoso quando lagga così mi fa venire al nervoso quando lagga così Sì, ma devo forse alzarla la penna. Ma sì, ne ho perso un po', mi se ne frega. Sì, ho capito, con la visuale interna è meglio che lascio perdere. Dove che stanno andando? Ah, non lo so io che giro stanno facendo. Gli ho detto di fare una cosa e non la fanno neanche. No, se vanno avanti a fare quello che vogliono, non lo caccio fuori tutti, eh. Cosa mondo. Forse c'è uno che lavora, non lo so. Almeno, che fa quello che ho detto io, perché. Già Nicola gli avevo detto di fare una cosa, invece ha preso il camion e cose. Sta lavorando, ma non quello che gli ho detto di fare io. Eh già, ma vabbè. A Albi gli avevo detto di fare una cosa, vabbè che Albi è uscito. E invece faceva un'altra cosa. Forse PCC ti sta facendo quello che ho detto. Non lo so neanche sicuro. Sì, lui sì, è già qualche giorno che entra, lo so. È abbastanza bravo. Allora, allora, allora. Andiamo un po' qua. Frena. Eh, ragazzi, devo ancora prenderci la mano col joystick nuovo, quindi sono un po'... Manu, prova a vedere se c'è uno via al BGA con un camion, cioè con... Sì, Nicola, cioè sia Nicola che Leo Blaster qua. Eh, ma uno è con... Io sono al BGA, quindi. Sì, lo so. Uno è con quello da trasporto e l'altro con la botte normale, con la per il camion. Sì, Leo è quello con la botte da spargere. Eh, ma direi di rimanere lì che c'è il coso qui è. Eh, pensi che non gliel'abbia già detto prima? Ha la testa dura. Dice una cosa ma non ascoltano. Dalle vacche. Allora. Così. Sì, sì, devo ancora abituarmi col joystick nuovo. Beh, quello dell'Xbox 360 ovviamente è meglio di quello che avevo prima, però... L'altro avevo comandi completamente diversi, allora... Perché era diverso con gli joystick. Allora, adesso devo ancora abituarmi con questo. Per quello. Allora vado... Sono un po' imbranato oggi. Sei imbranato sempre, ma... Qua ci sta un kink. No, no, però se non puoi... Ma da farming sì che posso. Ah, no, no, so che il santo. No, dai che poi non ho voglia di fare un altro asincro. Sì, anche se non mi tamponi dietro col camion, cioè... Vabbè, dai Matti, spara la tua seconda battuta che poi finiamo il video. Vuoi proprio che la dico? Di là, di là. Oh, madonna. Cosa metti le marinai sul pandoro? Eh. Il zucchero a vela. Ma... 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 Pessimo anche questo, ovviamente. Ma ti le trovi tutte te, quelle pessime? Questo qua... Non lo so, mi è mutato così, Brin. Sì, ma... Ma ricarica... Ricarica colpi se stai laggando. Anche a me prima laggava un po', infatti andava a colpi e era a ricaricare. Allora, ragazzi, vi invito a lasciare un like, a commentare, a iscrivervi al canale, se no l'avete ancora fatto. Vi saluta Mario, vi saluta Matti, o come si chiama, non lo conosco. Gli faccio salutare dagli altri. Ecco, PC, che saluta. Sentiamo gli altri si salutano. Ecco, uno. Allora, vediamo qua. Ne mancano un paio. Manca le obolatte, le batte, credo. Ecco, io vado. Lui non saluta, io vado. Posso dire una brutta cosa? No. Ok. No, puoi dirla quando sto a cuore la registrazione. Va bene, potete capire. Ha lasciato a server, ok. Non saluta neanche. Ha lasciato a server. C'era mica un altro dentro? No. Aspetta, vado a vedere. Si è già uscito, Albi. Ah, sì, è vero. Eh, vedi che memoria che ho. Quindi, ciao tutti, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ragazzi, mi sono dimenticato una cosa, che è già qualche video che mi dimentico di fare. Cioè, devo salutare due persone che mi hanno chiesto di essere salutate. Cioè, Farmer75 e Michele Santucci. Quindi, ciao ragazzi. Ciao, ciao. 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 Ciao.